Nel 160esimo anniversario dalla Fondazione e a 10 anni dall'ultima pubblicazione, la Polizia Municipale di Pistoia ha presentato il proprio calendario storico. L'opera, curata in collaborazione con il professor Giorgio Petracchi, è stata rappresentata nella Sala Maggiore di Palazzo di Giano, insieme a una sua versione da tavolo. Sono sicuramente cambiati le attività, i compiti, l'attività è diventata più operativa. Quello che è rimasto invece costante nel tempo è la vicinanza che la Polizia Locale ha nei confronti dei cittadini, che è un po' l'elemento che caratterizza tutte le polizie locali. Sfognando le pagine del calendario si ripercorre la storia della Municipale Pistoiese, fondata nel 1862, indagando anche sulle figure che nei periodi precedenti hanno operato in città con compiti simili a quelli attuali del corpo, il tutto affiancato da interessanti foto ed illustrazioni storiche. Che storia è stata? È stata sempre una continua crescita, sia professionale sia umana. Infatti all'inizio ricordiamo che purtroppo le donne non potevano far parte di questo corpo, nel tempo invece non solo ne hanno fatto parte ma lo dirigono anche questo corpo. Quindi l'evoluzione c'è stata e direi in maniera anche positiva. I compiti si sono arricchiti, è cambiata chiaramente l'epoca di riferimento e sono diventate anche più complessi. Comandante, con l'occasione siamo a fine anno, si può fare un bilancio di questo 2021 per la Polizia Municipale Pistoiese? Sì, molte attività è stata dirottata purtroppo nei controlli legati all'epidemia. Quindi anche per queste festività natalizie si sono intensificati i controlli sia sulla circolazione delle persone sul territorio, sia a piedi che a bordo dei veicoli. Diciamo che l'attività, oltre a quella ordinaria che già era vasta, si è aggiunta anche tutta quest'altra area. Il 2022 che anno sarà? Si spera che da un punto di vista del Covid sia un'attività un pochino più leggera, perché questo vorrebbe dire che finalmente stiamo uscendo da questa situazione che purtroppo ci portiamo dietro da un paio d'anni. Come già sapete è in fase di costituzione dell'unità cinofila, quindi sarà un servizio più improntato anche all'operatività e alla presenza sul territorio.